Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Hello! No. Ciao. Che so sbattuta. Check Voice Music. Sono Marco Sarisola. Ciao, sono Mauro Simone. Ciao, sono... Ciao, sono Imatia Scherani. No. Ciao, sono Mauro Simone. Ok, domande. Ultimo musical fatto... È venuto più, via della sfiga. Primo musical fatto... Gris con Lorella Cuccarini. Ciao, sono Angelo di figlia e lui è Ansel. Saluta, dai, saluta. Dai, vai. Ok, 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 non ne faccio più. Mauro Simone regista. L'esperienza che ripeteresti senza pensarci due volte? Sicuramente tre metri sopra il cielo. È stata l'esperienza più bella, più grande. È la mia prima vera regia. È stata una grande emozione, un bellissimo team creativo, un bellissimo cast artistico. Insomma, davvero lo ripeterei tante volte, mille volte. Magari, chissà. Il primo provino che avresti voluto superare. No, che primo provino? Il provino. Il provino che avresti voluto superare. We Will Rock You, per il ruolo di Galileo. Ma niente, non ce l'ho fatta. Ho cantato davanti ai Queen, davanti a Brian May. È stato emozionantissimo. Sono arrivato, insomma, fino alla fine, tra gli ultimi candidati. Ma poi... Nada de nada. E poi... Ultimo musical visto. Ma perché queste domande generiche, figlia? Ok. Parliamo della strada. Della strada, un commedia musicale, musical, non so, bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo. Tosca, proprio brava. Venturiello, una regia stupenda. Poi il pezzo della paperella. Que, 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 que. Ah, un altro lavoro bello. L'elefante, le ciliegie e la farfalla. È un lavoro di Loredana Sartori con Marco Dalberti e Marco Massari in scena. Più di prosa, però con qualche canzone. Devo dire che è stata davvero molto brava. Artista di musical preferito? Ma in generale non ce n'è uno. Cioè, preferisco questo. Me ne piacciono tantissimi. Secondo me, ecco, devono saper recitare proprio bene. Mi piace tantissimo Francesca Taverni, Loredana Sartori, Gianfranco Fino, Christian Ruiz, Martina Ciabatti, una bravissima performer, Chiara Noschese, c'è Andrea Verzicco che è molto bravo. Ce ne sono veramente tanti. Quindi non mi soffermerei su un artista. Poi, tutte le volte che vado a teatro, magari mi colpisce quell'attore o quell'artista in quel momento. Ecco, mi deve sapere emozionare. Questa è la cosa principale. Invece, sicuramente un artista di musical straniero è Christine Shanaway. Lei è veramente meravigliosa. Vediamo, città preferita da vivere in tournée. Firenze. Mi piace proprio tanto Firenze perché è piccola, ma nello stesso tempo ha un sacco di gente, tanta arte. Io amo l'arte, quindi mi piace tanto. Tutte le volte che vado poi giro per le stradine, i musei, insomma, meraviglioso. Film preferito. Tanti, ma Zoolander. Zoolander è meraviglioso. Papà, sono solo un piccolo sirenetto. Piatto preferito. Allora, sono vegano. Vuol dire che non mangio carne e pesce derivati dagli animali. Uova, latte, formaggio e tutto il resto, per scelta. Quindi, piatto preferito, ce ne sono tantissimi. Mi piace il tofu strapazzato, insomma, tante verdure. Preparo un sacco di piatti, di cose, mi invento. Mi piace cucinare, tanto per me e per gli altri. Drink preferito. Sono astemio, quindi non bevo e non dico parolacce. No, drink preferito, sicuramente acqua frizzante. Canzone preferita. Moonriver da colazione da Tiffany. Come saluterebbero voglia di musical Nicky, Trecchi e Orsetto di Avenue Q. Ehi ragazzi, non ho voglia di porno. Ho voglia di musical. Ehi ragazzi, non avete voglia di un drink? Ebbè, sì. No, io ho voglia di musical. E Nicky, eh, Nicky mi dispiace ma non c'è. Nicky è andato in vacanza e non può esserci oggi. C'è, avrei tanto voluto però e... Però niente, insomma, non può arrivare, non... Nicky, ti ho detto, stai giù. E dai, ti prego, non è vero, non ci sono. E dai, Nicky. Levati dal video. Ok, scusa, scusa. Nicky, Nicky, perfetto. Nicky, ciao a tutti. Nicky, ciao. Basta! Ciao voglia di musical. Non lo dico più, eh? Ok, ok. Ok, scusate. Ciao a tutti. Ciao voglia di musical. Ciao, ciao. Rod, dove sei? Rod, ok, ok. Ah, questo è il mio frigo. È uguale a quello di Martina. Martina Ciabatti. Sì, con l'altro video. Viviamo insieme. Siamo coinquilini. Questa non ve l'aspettavate? Ciao? No? 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 No?